Mi chiamo Nicolo Tei, ho 23 anni e studio all'Università di Parma, l'ultimo anno della laurea magistrale in Ingegneria Informatica. Svolgerò il progetto all'Università di Parma e il mio tutor è Raffaele Cicchese. Il progetto a cui lavorerò si basa sulla sicurezza informatica e ha l'obiettivo di creare un sistema integrato in modo da prevenire gli attacchi informatici, in questo caso nell'ambiente universitario. Ho scelto di fare domanda per approfondire le tematiche della sicurezza informatica che spesso sono poco trattate. Mi aspetto di imparare cose nuove e di interagire con personale più qualificato.